Tra le novità, se la possiamo così chiamare, è la novità che si ritorna al format tradizionale, ma non tanto, il format poi non era stato cambiato già l'anno scorso come impostazione di base. Chiaramente abbiamo avuto qualche edizione un po' defalcata sulle settimane, perché poi c'è stata un'annata che abbiamo dovuto terminare la manifestazione dopo due settimane e anche lo svolgimento del complesso era un po' diverso. Ecco, non c'erano le cantine monumentali, le stuzzicherie, quindi era un format un pochino ridotto. Quest'anno si ritorna al format tradizionale anche come accoglienza del turista. L'8 ottobre finalmente siamo alle porte per l'inizio di questa cinquantonesima edizione, è stata un'edizione concentrata principalmente su tre fine settimana come manifestazioni, come eventi, che sono dall'8 al 9, 15, 16, 22, 23 e il 30 avremo una fiera merceologica classica, che era quella dove i tartufai che alla fine della stagione si trovavano qualche soldino in tasca, facevano le provviste per l'inverno, andavano a comprarsi. Iniziamo l'8 e il 9 con tartufarte, quindi ci sarà il paese che verrà in qualche maniera arricchito da artisti che esprimeranno la propria arte in tutti i modi possibili, immaginabili. Il 15 e 16 avremo il motoraduno internazionale, che quest'anno è arrivata alla sua 44esima edizione. Infine il 22 e 23 ritorna un gradito, in qualche maniera rientro, di una collaborazione con il Camper Club di Peso, un raduno di camper a livello nazionale e poi il tema del viaggio, inteso come accoglienza dei visitatori che vengono a trovarci a Sant'Angelo in Vado. La Domus del Mito, ovviamente, che vi do in anteprima, avremo una nuova stanza da far vedere al pubblico, quindi una novità assoluta che la dico oggi per la prima volta. In più faremo una bellissima mostra che aprirà i suoi battenti l'8 di ottobre, che terminerà l'11 dicembre sul tema 600 anni da Federico Montefeltro. Prendiamo il testimone delle mostre fatte precedentemente e parleremo di Federico Montefeltro e il Ducato di Urbino, in una lettura del territorio e di quelli che sono stati i personaggi vadesi che hanno reso grande il grande capitano e duca di Urbino.